L'altro giorno ero saluto in treno e controllavo le mail e avevo saluto davanti una coppia. Lei è bionda con gli occhi neri neri, bellissima. Non esattamente la ragazza che vorresti avere davanti quando è col suo moroso, specie se il suo moroso ha un bicipite che è grande quanto il tuo petto. Parlano di un weekend appena passato al mare e sembrano molto felici. Suona il telefono di lei e da sua mamma. Dopo un po' gli passa il ragazzo che le dice dolcemente che ha rapito sua figlia ma che la sta riportando a casa. Ridono, sono felici, limonano e visto la prossimità dei sedili anch'io limono con loro. Astrettamente. All'improvviso il disastro, lei vuole caricare una foto su Instagram nel weekend, lui ha consente ma non vuole essere taggato. Crolla al mondo, lei fissa un punto sopra la mia testa con lo sguardo vitreo, immobile, ferma. E gli dice è sempre così. È tutto un mio viaggio forse ma mi immagino che questo tag per lei sarebbe stato una conferma importante. E questa cosa mi fa pensare che forse ci sia una volontà di avere delle certezze. Infatti la gelosia cos'è se non il volere delle certezze delle persone che amiamo? La gelosia è un'esperienza tipica nei rapporti umani ed è osservata fin dai 5 mesi. È un sentimento che è con noi fin da bambini ma che diventa più chiaro, più lampante quando abbiamo a che fare con delle persone di cui siamo innamorati. Sofia ha già fatto un video sulla gelosia che trovo molto bello e che condivido. Vorrei solo dire che secondo me la gelosia è una qualità specifica dell'ansia. Nello specifico l'ansia di perdere l'attenzione di una persona di cui siamo innamorati. Esiste anche una gelosia che riguarda il passato del partner e si chiama gelosia retroattiva. Che poi è il motivo per quando io mi metto con una persona non chiedo mai degli ex. Mi convinco che prima di me vivessero sull'isola deserta e non avessero mai incontrato nessuno. A volte ridendo dico che io non faccio domande a cui non voglio risposte. E così magari evito anche indagini su di me. E naturalmente è uno scherzo ma come dice Louis C.K., but maybe. Una cosa che mi viene in mente sulla gelosia e che magari è un po' scontata ma che fa bene ripetere è che la gelosia è frutto della nostra vulnerabilità. Noi siamo vulnerabili perché ci confrontiamo con gli altri e questo ci fa un po' paura. Che si tratti del miglior amico della nostra ragazza o di un ex storico che riappare sporadicamente abbiamo paura che ci possano portare via la persona che amiamo. Ecco, questa espressione portarcela via mettiamola un attimo qua che poi ci ritorno. In un libro ho letto una frase bellissima. La gelosia è figlia dell'orgoglio ma si spaccia per sorella dell'amore. Ecco, la prima fonte della gelosia siamo proprio noi. O meglio, la nostra mancanza di autostima. Quando ci rendiamo conto di essere a disagio con la persona che amiamo per la gelosia la prima cosa da fare è chiedersi perché. Una volta capito basta farsi una semplice domanda. Ha senso questa cosa? Mi spiego, se la mia ragazza ama l'arte e va a una mostra con uno, che è una cosa che va benissimo, ma mi dà fastidio, capra, impara qualcosa, vacci insieme l'orsima volta alla mostra. Almeno tu migliori e fate qualcosa di nuovo insieme, che è bello. Se invece siamo gelosi solamente perché un qualche ex mette un piaccio intanto su Instagram, potremmo anche darci una calmata. Come sempre, prendere consapevolezza del perché sentiamo le cose che sentiamo ci aiuta a renderle più piccole e più gestibili. Adesso vorrei tornare a quell'espressione, portarcela via. Ritiriamo giù. Penso che sia un'espressione tremenda quando è riferita a un'altra persona perché gli dà lo stesso valore che un cucciolo di labrador darebbe a un legnetto trovato al parco. Quando pensate che qualcuno possa rubarvi il partner state in qualche modo negando loro la libertà di scegliere come se fossero degli oggetti. Cioè non è che uno viene rubato, uno sceglie di non esserci più. La possessività è un problema vero. Quando vediamo gli altri come oggetti facciamo qualcosa di molto violento. Sia da un punto di vista psicologico che purtroppo in molti casi fisico. Quando sentiamo storie agghiaccianti di stalking, di violenza domestica, di femminicidio, parliamo sempre di casi in cui le vittime sono percepite come se fossero un oggetto. E in quanto oggetto sono reclamabili. Naturalmente poi non sto dicendo che se proviamo un po' di gelosia siamo persone tremende. Sto solo provando a mostrare come sia potenzialmente pericoloso questo modo di pensare. Dovremo sostituire l'idea di possesso con l'idea di condivisione fra due persone libere. Riconoscere la libertà di scegliere della persona che amiamo è forse la cosa più romantica che possiamo fare. Minchia, bella questa. E certo che poi è bello sentirsi dire sono tuo, sei mia. Ma è bello solo quando è evidente che un sottotesto sia e così sarà fino a quando lo vorremo. La gelosia ci rende peggiori. E alla fine essere la versione migliore di noi stessi dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi rapporto. È bello andare a letto la sera e pensare io oggi sono stato al meglio per la persona che amo. Poi la gelosia ti porta a litigare che è una cosa che io non sopporto. L'amore non è bello se non è litigarello. Ma questa chi l'ha detta? Ecco, per me no. Già abbiamo un 2000 rottore di coglioni. Se poi dobbiamo litigare con la persona che conquistiamo per scopare meglio, io veramente. E la cosa buffa è che si può litigare sia per la troppa gelosia che per la sua totale assenza. È difficile negare che un po' di gelosia ci faccia sentire desiderati. Il paradosso è questo. Quando un uomo è geloso infastidisce e quando non lo è irrita. Secondo me è importante imparare a trattare la gelosia non come qualcosa di sempre patologico, ma è bene imparare a inserirla in modo sano in quel miscuglio di cose che sentiamo quando ci innamoriamo di qualcuno. Io in una gelosia che rispetta la libertà dell'altro e che non ci crea ansia, non ci vedo niente di male. Vi butto lì una perla. La gelosia può far parte dell'amore come il limone nel gin tonic. Ci può essere, ma non si deve sentire troppo. La gelosia può diventare un problema enorme, non solo per motivi etici e morali con cui vi ho rotto fino adesso. È un problema enorme perché non c'è niente di meno sexy di chi ti rincorre, di chi ti toglie i tuoi spazi. Ma in che modo messaggi tipo dove sei, con chi sei, cosa stai facendo, hai visto il nuovo Marco, perché senti a ballare possono far venire voglia all'altro di tornare a casa e limonarvi duro. Questa gelosia qua ragazzi funziona meglio degli anticoncezionali. Dobbiamo lavorare su noi stessi per essere al meglio di quello che potremmo essere. E combattere la gelosia non con una negazione, ma con l'affermazione di una versione di noi talmente figa da essere schiacciante. Una volta che io sono la versione migliore di me, se vuoi andare con Paolo, io che ce posso fare? E a te Giuliana che sei saluto davanti a me in treno, forse il tuo ragazzo per passare con te il weekend ha detto ai suoi compagni di squadra che aveva l'influenza e per questo non vuole essere taggato. Ecco, un uomo che rinuncia al calcio per te? Forse questa in effetti è una cazzata.